Buonasera e benvenuti a questa edizione speciale di Usch a Usch. Ora vogliamo ragionare di circa l'essentità del 2017 contro segreti, uterre, sortite e strutture. Si è un ponte via con dei grandi freddi, con le segreti di Ciampedale e Cianacei. Ed è che si dice, se il buon tempo si va da buona ora, l'istala ha conosciuto un bel bamburta. Valguina paghi molte, sa che è di manco. Sono con il servizio. Ora, Elva, io l'ho invita a vivere! Sì, è vero! E se vedo un'altra messa, confetti le dalle sue lezioni. Eh, va bene. Ok, ciao! Ora, Ipanucci, ma noi ero in processione con noi. Edo lo è nessuno. E sarà al palco. No, al solito. Edo la non propria perfetta performance della Segres, Lolo Pere, o il Pere Lolo. E sapere che la musica ha bisogno delle prove di marcia. Vediamo e insieme con quella gita. Anna Rish, stasera ci sono le prove di marcia. A me non me ne frega niente se devi andare a mangiare la pizza col moroso, ok? Uffi, papà, che pesante. Non essere così noioso. Rotola invece che essere un cubo. E ragazzi, siamo qui per fare le prove e per evitare le figure di merda. La distanza fra uno e l'altro è un braccio. Siamo grossi. Adesso facciamo attacco marcia. Allora, mi raccomando, non ci sono finta coloriche, eh? Pronti? Tata! 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 Ah, ragà! Avete rispettato le distanze? Eh? Ma sì! Siamo tutti a un braccio di distanza! Eh! Eh! Ma i bandierei? Olè, epa! Se io le ne smentiè! Fosto so carino gli inviare! Maronna! Tocca la sazon e tocca la festa del Paese. Quella ola che la musica la consiede a su, non per sue abilità musicale ma per quelle matematiche, tanto che Domenic leccatere anche il domani ai nostri preziosi contributi, e la festa teante a Ritobier. Vediamo, coca la gita! Ciao, Daniela! Vorreste domani? Ola che lei è il listino con i prezzi? Che anche può essere con i prezzi e la roba domani? Ciao, Daniela! Scusate se siete scecche! Ma che ho? Io do che mi domani! Ola che le carine da Portaes! Oh, Daniela! Chi for già scatemi a smanare? I radici bici! Daniela! Che ho le fenni la moneda? Daniela! Quando ci portano le cartine con i chioschi? Ops! Dani! Già è finita a Portaes! Io vorrei un pollo e della salsicce! No, guardi, mi dispiace, ma il pollo deve andare lassù a prenderlo! Qui solo panini! Vabbè, allora mi dia la polenta con il gula! No, solo panini! Allora va bene, invia le Fortae! Solo panini! Allora va bene, un panino con la porchetta! Solo uno! 15! Qui! Ok! Sono 60 euro! Perfetto! Con questa spesa, guardi, posso regalarle anche questo! Un omaggio! Anch'io lo vorrei quello lì! Mi dispiace signora, ma al massimo per quello che ha speso posso darle questo! Wow! ..... Una vita la vida! Due un po' rassie e due! Un per uno il s totally pie �lio! Puoi essere! Puoi essere! Puoi essere! Mi questo biopное! Daniela! Puoi essere! Amore a Mancini! E'la ara che mi rispetto! Cimpire! Ti fai andare! Amore a Mancini! õ gutsai! Per qualcosa che metto! Nu non ne abbiamo! Non è vero! Quando si struisce e fa dire, se non si vedeva l'ascesa all'Olimpo dell'Euregio. Dalla scinta domanda del 6 settembre partì ad appena la Corriera di De Silvestre per non venire il cuore del Paiern. La domanda è stata bella buona fredda. Buon che la sera d'ante se si è asciudita con quel buon elegire del posto. Siamo a vedere. Che festone in sera, che bello l'estate ma in che è dura i ragazzi. Con tutta quella birretta sono bella in sera. Sarà pa' dove scommenzare con quella pruma che è sorgita da fuori a mettere da sole. Già, non c'è niente bene. Né una da Monaco, né una marca tendera. Nessuna amica in che... Miau! Che è nato, ora è nato, si alzi, si alzi. Che è nato, ora è nato, si alzi in piede. Ma che che gli era mai da se lamenterlo? Che sono zitta a dormire dalle 10. Ma che fredda ragazze che li chiamo a Monaco. Ma si che in sera se non puoi vivere, eh? Ha manco il nostro piede famo. Ma vabbè che è molto bianchi che è ed... Ma che spalla! Non può che tutto fosse negra, eh? No! Freit, freit! Ha destaccato il fileta! Però anch'io, è già un'ora che spettone per lì! Senti che puzza d'accia vai! Sì! 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 Ragazze mi raccomando sorridete sempre e salutate che c'è la telecamera! Facciamo bella figura! Pronte? Spett shouting! Misichспorziamo la livella per altri! Rordarino che ne citano attraverte? Pronte? Un po' di spettola ma provata, 房manale. Dissrette domata! Certo, certo, Verda sarà il ciotchio! Ma risa nelle anni 90 anni! Dall'esperienza a Londres, De Silvestro Viaggi ha avuto la corriera a l'auta di Appenins. Ness'altro, si è piaciuto con dei buoni tartufi e invece si è morto, sonato e perdito. Tanto alla Gaisa, che valgù in sainte di sminchiare la sottoprise. Sfravindelo, ciao nel concerto, siete pronti? Daniela, Daniela, ci vedi a sminchiare la ciamaisa! Ma che, Piero, la ciamaisa! Potrebbe essere carina se non è ricordata la ciamaisa. Ma, ma èste! Daniela, ho un piccolo problema. Vedi a sminchiare i cioti! Ma che, tu, ci vedi! Ok? Maestro! Mi sono dimenticata il cremione! Oh, che banda scomposta! Che figura di merda! Che, non ho capito! Che cosa? Che ciamaisa? Che ciamaisa! Che ciamaisa! Che ciamaisa! Che ciamaisa! Che ciamaisa! Renato, Renato, si alzi, si alzi Che è nato, Renato, si alzi in piedi Ma dov'è Renato? Son chiò, son chiò Ma non tu Renato, Kraut e Renato C'è se tu ruolo l'elicottero in sera Mio Dio, non la romia, lasciate quel bosco Ma se il suo strumento è qui Ma no, no, son chiò, son chiò, sono in splendida forma Con questo siamo sul dossier Musica Autofascia 2017 E con l'ultima edizione di Usha Us Vi spettiamo in alto con l'edizione rinnovata della Musica Indiretta Speriamo che vi sia piaciuto Una nuova sede a Vpermel Se vediamo forse se lo vuole da ora Al concerto di Nadel A un'altra più bella Una viva tutta la Musica Vive E' un paio perché i momenti passano insieme E' un brindisino La 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 E' un brindisino La 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 E' un brindisino La 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 Vive Vive